Book 2 37 In viaggio Lui va in motocicletta Lui va in bicicletta Lui va a piedi Lui va con la nave Lui va in barca Lui nuota È pericoloso qui È pericoloso fare l'autostop da soli È pericoloso passeggiare da soli di notte È pericoloso passeggiare da soli di notte Ci siamo persi Abbiamo sbagliato strada Dobbiamo tornare indietro Dobbiamo tornare indietro Dove possiamo parcheggiare? Dove possiamo parcheggiare? C'è un parcheggio? Per quanto tempo si può lasciare la macchina parcheggiata? Per quanto tempo si può lasciare la macchina parcheggiata? Lei scia? Lei scia? Sale con lo ski lift Sale con lo ski lift Si possono noleggiare degli sci? Si possono noleggiare degli sci? Alla prossima Dai